80 anni fa Cremona è stata bombardata. L'obiettivo era la stazione ferroviaria, ma in realtà vennero distrutte le case, i palazzi vicini, 119 le vittime e 82 i feriti. Vite spezzate, dolore, ricordi ancora forti, profondi, indelebili per chi li ha vissuti. Sono ancora emozionata perché è un brutto ricordo, bruttissimo. Tutti questi morti, dovevi vedere quando ho fatto il funerale, tutti queste bare in Duomo. Io ho una bambina di 10 anni, quella di mia zia non veniva fuori niente, ma certo colavano. Orribile anche questo, è un bruttissimo ricordo. Ho preso soprattutto questa mia zia che oltretutto noi eravamo orfani, si manteneva tutti, era professorissa e aveva 34 anni. E poi sono morti gli zii di un'altra mia amica, lei era in montagna, è morta la pettinatrice, è in piazza di sorgimento, c'era il fornaio, c'era il droghiere eccetera, i fornai sono morti per esempio tutti, è così. Però hanno suonato in ritardo l'allarme. Questa mattina autorità civili e militari, associazioni e cittadini hanno commemorato le vittime davanti al monumento a loro dedicato in via San Francesco d'Assisi. Tra le vittime ci furono 20 ferrovieri che erano in servizio presso la stazione di Cremona. I cittadini hanno bisogno di comprendere fino in fondo quali sono le radici della nostra storia e anche quelli che sono ai meglio eventi più drammatici perché in qualche modo ci insegnano a declinare quegli episodi anche dentro l'attualità. Oggi abbiamo ricordato le vittime di questa tragedia che è collegata comunque a quello che succede nel mondo quando si parla di guerre e di quello che sta accadendo. Poi è stata inaugurata la mostra fotografica di fianco alla chiesa di San Luca ed è stata sottolineata la complessità di quel periodo storico. I bombardamenti erano bombardamenti da parte degli alleati che stavano anche liberando l'Italia. Quindi c'è una contraddizione che va studiata, va vista, va capita. C'era un'idea di guerra, di guerra totale che usava anche la popolazione civile come oggi del resto. Usa la popolazione civile come arma per sconfiggere il nemico pensando che seminando il terrore, per esempio con i bombardamenti, sulla popolazione civile si possa sconfiggere prima la nazione avversa.